Che cos'è la povertà educativa? La povertà educativa è una povertà che non si vede e non si percepisce subito e che investe milioni di bambini in tutto il mondo. È una povertà che punta a togliere, che priva i minori degli strumenti per autodeterminarsi e per crescere in modo sereno. Che cos'è il Punto Luce? Come UISP Genova e insieme in collaborazione con Save the Children Italia esiste il progetto educativo Punto Luce che è un progetto di contrasto alla povertà educativa con l'obiettivo di guardare a quante più famiglie possibili per dare un futuro migliore, un'infanzia serena ai loro figli e alle famiglie degli strumenti per guardare al futuro con tranquillità. Quante famiglie aiutate? Il Punto Luce aiuta, sostiene circa un centinaio di famiglie. Durante la crisi legata al Covid questo numero è aumentato sia come interventi di sostegno allo studio sia proprio come aiuti e consulenze alle famiglie. Qual è l'obiettivo per il 2030? Entro il 2030 pensiamo di raggiungere ancora più famiglie e dare degli strumenti ancora più solidi consolidando il lavoro di rete sul nostro territorio, cercando di ampliarlo e sensibilizzando il più possibile i cittadini e le istituzioni sui temi su cui lavoriamo.